buongiorno a tutti e ben trovati a questo nostro nuovo appuntamento con quotidiano in classe tra poche settimane ci sarà come di consueto ogni anno il festival di sanremo anche questa volta come nelle ultime edizioni molti protagonisti quelli più giovani provengono dai cosiddetti talent show immagino riconosciate molto meglio di me la domanda che vi faccio quindi è che cos'è per voi il talento